Tassi usurari Abusi edilizi, stop alle demolizioni in Campania, il governo approva un decreto legge. Alluvioni, in gazzetta le nuove norme sulla gestione dei rischi. Un piano di sostegno per i praticanti più meritevoli che accompagnerà l'attuazione della riforma forense, una riforma fatta per i giovani e non contro i giovani. È quanto previsto dal Consiglio Nazionale Forense nel Manifesto sulla riforma forense approvato venerdì scorso. In particolare il documento sottolinea che Il divieto di società di capitali evita i rischi di sfruttamento dei professionisti più giovani. Le specializzazioni valorizzano le specifiche vocazioni professionali dei professionisti più sensibili ai mutamenti della domanda di mercato. La disciplina della pubblicità mira ad evitare forme di concorrenza sleale a danno dei professionisti più giovani dotati di minori risorse. Il ripristino delle tariffe minime tutela la qualità della prestazione a tutto vantaggio dei consumatori e protegge gli avvocati più giovani dal rischio di sfruttamento da parte delle grandi imprese bancarie ed assicurative. Il tirocinio più effettivo e professionalizzante dota agli aspiranti avvocati delle capacità necessarie per essere più competitivi sul mercato nazionale ed internazionale. Il nuovo modello di tirocinio consente di superare l'esame di abilitazione con una prova scritta su di una materia scelta del candidato a fronte delle attuali tre. La commissione di massimo scoperto rientra fra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso effettivo globale ai fini del reato di usura. È quanto stabilito dalla sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 12.028 depositata il 26 marzo scorso. Secondo il Collegio, il chiaro tenore letterare dell'articolo 644 del Codice Penale impone di considerare rilevanti e fini della determinazione della fattispecie di usura tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito e tra essi rientra la commissione di massimo scoperto. Nella riunione di venerdì scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che sospende fino al 30 giugno 2011 l'esecuzione delle sentenze di demolizione di immobili abusivi per abitazione civile nella regione Campania. Il provvedimento riguarda immobili che siano stati comunque dichiarati non pericolanti e siano abitati da famiglie che non dispongano di altra abitazione. Secondo il Governo, la misura si è resa necessaria a causa dell'incertezza normativa che si è determinata nella regione a seguito della mancata applicazione del condono edilizio del 2003 disposta con legge regionale. Ridurre i rischi e le conseguenze delle alluvioni Questo in sintesi, l'obiettivo della Direttiva Europea attuata in Italia con il Decreto Legislativo numero 49 entrato in vigore il 17 aprile scorso. Gli strumenti e gli obiettivi del provvedimento riguardano Cartografie aggiornate e confini dei bacini idrografici La descrizione delle alluvioni avvenuta in passato La valutazione delle possibilità che si verifichino nuovamente E lo studio di previsione delle potenziali conseguenze negative Grazie a tutti! 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 Grazie.